è tutta una mafia bella, quanto sei bella noi già avevamo giocato con questi quanto stanno? 4-0 per? io si per? buon? e va bene non sta qui, poi arrivi fino a là poi vai verso il centro per destra oh scusatelli come se? un po' un po' un po' un po' ci basta una, un po' lui, lui, lui via, è Stefano la putta continua, arriva in là ahhh, Matteo Matteo Sì, è lì! Sì, è lì! Non importa, vai più! Era più bello da tirare a tutti i genci in mezzo! Sì, è lì! Sì, è lì! Ehi! Sì, è lì! Sì, è lì! Ancora Sallino! Che stai? Sì, è lì! Ehi! Sì, è lì! Non sapevo qui! Ehi, ehi! Ehi, ehi! Ancora Sallino! Sì, è lì! Di�ai, la? Ecco! Ehi, ecco! basta destra regà ti aveva premiato ti avevi premiato che poeta quest'uomo come dici che cazzo vai a fare devo cercare i capi ieri guarda quelle con le macchine la guida una ferrari quando ho visto quello l'ho fatta raga fate io quello ma poi l'hai capito il fatto d'agrobatico nel hai fatto questo che figata ho visto pure ho visto quella pure c'era che cazzo c'era c'era una con con quello che va sulla neve il motorino sulla neve ah cosa la motoslitta figata poi sono fighi sti cosi poi poi guiare un anno lui quando fa la notte c'è mandata la foto fategli il terzo quella è stata una musica adesso ovviamente la foto non le fai 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 ma va bene grazie no no grazie potrei fare dei vestieri fai l'organizzatore di feste infatti perché non ci pensi c'è l'organizzatore di regalo no no tu fai l'organizzatore di feste poi quelli senz'altro che devo fare non lo chiamano mi paghi l'extra l'extra sarebbe ieri di un regalo esatto non conoscendo la persona naturalmente fai felice quanto stai cinque cazzo fai così questo è roba mi hanno andato a cambiare io pure è proprio stretto ma te cambia Max in realtà lei lei quella deve arrivare quindi bene mi è arrivato mi è fatta un gioco da lei mi è fatta mi è fatta The Witcher The Witcher lo fa The Witcher 3 da Lele play 4 si chi avete qualcosa di play 3? oh mio Dio io pure c'ho la 3 c'hai la 4 no già me l'hai chiesto l'altra volta Chris ogni volta me lo dici fatti la 4 voglio passare pure io al lato scuro della 4 ma io ho deciso ormai la prossima generazione cambio me lo so me lo so xbox eh io non lo so se lo farò mai lo sai eh io pure quando sono stato così ma sto andando da che sono di sto a fare un giro dei cazzati ma io non so ma è sto molto l'ultima cazzata di fan fantasy 7 7? cavolo che non fa uscire episodi la square ma è diventata una cosa perché Dio che non riesco a metterlo su un blu ray ma che cazzo stai di cazzo l'hanno fatto su la play 2 non ci riesce su un blu ray cazzo è che la quali è cambiata è un pistoli è uguale ma il blu ray te ho qua cioè fidate che il blu ray per me la grafica fa tutto lì eh la grafica la battuta non è che roba tipo che fai no 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 non è certi episodi capito cioè ma quello è diventato cosa dei soldi ragazzi ma poi a TNC mi sono uscita era buono io magari finisco alla parte mi sono uscita che esce a TNC ma che cazzo si stava a Dio ma 15 il 15 porco 2 sto a rosicare 15? 15 fai nel fantasy 15 ma quando che su esce? al 31 dicembre del 2016 porco 2 ancora dove uscire a novembre quest'anno dove è come il 14? cosa no ma dove usci quest'anno il 15 dove usci? dove è? è l'11 novembre invece quando usci il coso? è uscito M Strike tipo va a uscire l'11 novembre eh sì lo ricordavo e se andavo a prenderlo no guarda non ci sta non ha rinviato quanto? eh vabbè un mese io vabbè è già gennaio quando mi dice no guarda a novembre il 31 novembre del 2016 poi sul sito della Sony c'è scritto il 31 dicembre del 2016 e ho belli mi mortacci loro bella mano vai vai ma quando hai la giornata del merda la giornata del merda è così che stai con te? come un uomo? ci stai no non c'è niente se te c'è stai ma perché io stavo con il macchino su quel lato? mi sicuro bravo a te andiamoci di tipo a casa mia vuol dire che tipo a casa tua no raga, non sto scherzando ho giocato a cosa, stavo da Lomba ho fatto il Gran Premio del... che era? del Belgio insomma per Q2 quanto cazzo è difficile e quanto cazzo è fatto bene Formula 1 sono arrivato quinto, sono arrivato, no sesto insomma che ti sei stato detto ho fatto una qualifica di merda su primo partito sette ho fatto tre P-stop, l'uomo ricominciava la diciottesima ho fatto la metà dei giri se facevo tutti i giri a Ricciardo l'avevo ripreso ce l'avevo davanti ormai cazzo non è che non l'avevo preso Ricciardo perchè cazzo, ho dovuto W1 un po' meri però anzi si è torto quando l'ho raggiunto si è torto è proprio spostato però ero convintissimo che fossi Ricciardo vedi l'avevo ripreso io ce l'ho allora senti questo bippo ieri sera che cazzo era? non l'ho ancora capito non l'hai capito? no è che sono andato a vedere ho smontato tutto tipo una mensola allora ieri sera non l'ho capito è una bomba no raga davvero mia madre ha detto questa è una bomba allora ha detto no se era una bomba era già scoppiata perché ieri sera senti questo bippo allora allora abbiamo presunto che pensa che so i vicini che hanno messo qualcosa sul pavimento che fusi sul pavimento? eh c'è sta c'è un allarme si l'allarme sotto al parquet l'hanno messo ah quello che tipo se tocchè che è più a contatto porco due ma porca troia no porco due vogliamo proprio farla tua vogliamo muoverla tutta? io non mi scavo porco dio dai 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 io stavo smadonata dai entra ma che minuto siamo? dirò come fa come fa a sentire il freddo? non fa a freddo grazie al cazzo grazie al cazzo stai col giubbotto ma io sento il freddo pure due giubbotto allora sarà che oggi vinciamo? vabbè spero c'è stato ieri Claudio c'è chi sono loro c'è Varella, Romano stavo a Dattoli che stavano elementari 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 che dicono che vincono sì ma io vorrei dire che la scorsa stagione avevo vinto 3 a 2 e un gol ho fatto io dalla porta ho superato tutti ho superato e quest'anno non abbiamo la squadra dell'anno scorso vabbè sì ma noi non c'era un po' di niente non c'era un po' di niente non c'era un po' di niente l'ultima che abbiamo fatto ma Lorenzo non stava bene non c'era un po' di niente ma te non c'è stata tuccia in cita ma non c'era un po' di niente ma non c'era un po' di niente ma non c'era un po' di niente ma non c'era un po'. Nooo! No vabbè che attorno, però attorno a meno degli altri No noi non torniamo sempre, attorno a meno degli altri Quindi è meglio che... No ma poi c'è l'altro io ho tutto Donno, Donno, Donno Che è successo? Chi? Maria Chi? Chi mi ha portato Maria? No, non arriva Maria Arrivato Cici! Oddio è bellissimo, ho sentito tipo il coro del San Lorenzo Il tipo fa... Ma cazzo, me lo faceva il coro e... Ma che faceva? Sì, vediamo se... Se scolavo la dameggiana di vino E si trovavamo tutta la dameggiana Oh, San Lorenzo! Ho capito? San Lorenzo Le, San Lorenzo Le Sì, esatto Che stretto è stupido Scusate Io, lo basta Lo fa che... Volevo fare canzone... Sai, devo voler richiamarsi Bomber C'era detto Volevo fare, tipo di canzoni tipo O io se eserbido sto giocare Stiamo pensando cosa fare E... Lascia chi lo sao Orse no... Il fuori è Bomber Che paigli anni che chiede Dai, ce la bella gente Lascia chi lo sao Il tuo privio più grande Dai... Lo so, tutti vuole parlo come così il genere da ubriani eh si però stasera devo fare da doppio ma da sopra io da malati quando ci vengono ubriagati io mi penso a capodanno non ti manca se lo vanno a cambiare bella idea no ancora mancano 14 minuti 14 minuti ha iniziato a tardi è in ritardo si si io ho ripreso da quando ha iniziato ah no è vero questo è prima che ha iniziato ma non ti andiamo a sopra ah beh mancano 10 ma cazzo 14 10 minuti ora che caccia 11 non è vero non è vero non è vero mi dico pure io mi dico pure io allora ho ripreso tutto no Sì, sì, sì. Perché ha fatto lui così con l'altro piede, si è inciampato da solo. Sì, Dani, fai la ripresa. Quando trovi il cameraman che ti fa i video con i guanti da portiere? Non voglio, vedete se riesci pure a scrivere. No, scrive no. Palo, gol. Oh, 20 minuti di video. Già ho preso un gol. Quando il pallone deve entrare, non deve entrare. No, non, 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 non. Arriva. Vai e mezzo. Vai. Contropiede, contropiede. C'ha tirato Egoismo Sul 7 a 0 si può Lei l'avrebbe tirato anche su 0 a 0 Ma voglia, io riflesso dopo il condizionato proprio E qua mi lancio Non l'ha Oh che stai eh? Questo è di chi dà Senti chi dà Appena ci parto la La bua d'enco, la camara di senti chi dà Oh oh Eheh Eheh Vai vai, lo scherzo ti faccio Eheh Vai vai, lo scherzo ti faccio Eheh Valerio, volete fare? Voglio fare? Non sento che io devo fare No no, io devo fare, poi devo fare Cosa ti faccio? Eheh Io ancora non so che devo fare Ancora non l'ho vista questo E meno male che non so capire Loro Vai 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 Grazie. 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 Che c'hai più? Batteria, batteria. Batteria, ti posso prestare a ricaricare le batterie dopo. Che calcola devi fare le brevi? 1 in 30. Ancora? Zero. Tornaci. 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 E qui? André. Si, si. 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 Escappiamo. Andiamo sedi. Questa è un po' di schermo, ma da me. E' un po' di schermo. 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 Andiamoci. Andiamoci. Lesให드� tender, E' un po' di schermo. E' un po' di schermo. Navano male. E' un po' di schermo. Un po' di schermo. E' un po'. E' un po' di schermo. A cada uno. il 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.